Nel 1955 parte in quarta il mito della 600, seguito a ruota dalla più grande tra le piccole vetture. Eccola! 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 Piccola grande vettura, era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Presentata nel 57, la degna erede della Topolino adotta per la prima volta nella produzione Fiat un motore posteriore a due cilindri raffreddato ad aria. La vettura, pietra miliare dell'evoluzione delle utilitarie e del design automobilistico, consente a molti italiani di possedere finalmente un'auto dopo anni di viaggi in bicicletta, tram o corriere. La vettura, pietra miliare dell'evoluzione delle utilità, tram o corriere. La vettura, pietra miliare dell'evoluzione delle utilità, tram o corriere. La vettura, pietra miliare dell'evoluzione delle utilità, tram o corriere. La vettura, pietra miliare dell'evoluzione delle utilità, tram o corriere. La vettura, pietra mumenti delle utilità, tram o corriere. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti